Oh ed eccoci qui, siamo qui, io ovviamente, il nostro commento tecnico della partita di Minni. Minni come ha visto Inter-Juventus? Così, più o meno con la stessa faccia che l'hanno vista i tifosi della Juventus. Nel senso che è una Juventus che ha fatto un bel passo indietro secondo me, ma non per la sconfitta che ci sta alla grande contro una squadra che sicuramente è più forte, tra l'altro senza polemiche, senza problemi, anzi, bell'arbitraggio, mi è piaciuto perché si è giocato veramente fluido, mi è piaciuto un partita che a tratti è sembrato anche di campionato inglese, secondo tempo soprattutto molto piacevole, un bello spot secondo me per il campionato italiano, ma quello che volevo dire è che la Juventus mi è sembrata una squadra a metà tra la paura di perderla, di subire persino un'umiliazione, magari Memor del 5-1 del San Paolo dello scorso anno, e invece dall'altro lato secondo me non convinta di farcela, è come se in parte sapesse che stasera non poteva vincere, ma forse neanche fare gol a un certo punto. L'Inter ha fatto un primo tempo, soprattutto i primi minuti, i primi 20-25 minuti straordinari, cioè 70% di possesso palla, azioni concrete, forte in tutti i reparti eccetera. La Juventus però, ciò nonostante, tipico della Juventus di Allegri, comunque la palla spizzicata è arrivata, bella azione di McKennie, Vlaovic che sbaglia, un aggancio che non si capisce nemmeno, poi arriviamo a parlare di singoli e anche di Vlaovic e della sua brutta prestazione, diciamo che alla fine lì si è capito che n'era serata. E allora poi la Juve ci ha provato, con i pochi mezzi che ha a disposizione ci ha provato, perché vedere sul finale entrare Alcaraz, Miretti, Alexandro, tutti quelli che ha, e anche se non sono grandi nomi, UEA eccetera, Chiesa ovviamente dimostra che perlomeno non c'è la paura sempre di prendere gol, ma la voglia anche di cercare di vincerla. Però ripeto, è proprio l'atteggiamento, mi è sembrato che non ci crede, ecco anche questa palla di Rabiot, anche Rabiot non mi ha convinto molto. Detto ciò, complimenti all'Inter per la sua capacità di essere camaleontico, come dice Allegri, ed è uno che comunque vada di calcio, ne capisce, le scuole devono essere camaleontiche e leggere i momenti della partita. L'Inter ha approcciato la partita facendo capire che stavamo a casa loro e che non ce l'avrebbero fatta buona stasera. Da un lato, cross di Miretti, secondo palo, mamma mia Miretti ragazzi, che giocatore di merda. Comunque vabbè, da un lato ha giocato veramente con una grande aggressività, qualcuno diceva in chat, ricorda la Juve di Conte, no? Quindi quella squadra aggressiva che fa subito pressing sul portatore di palla quando la recupera, eccetera, da un lato. Dall'altro lato, al tempo stesso, è una squadra che dopo, quando perdeva il possesso di palla, comunque dopo evitava di pressare e si chiudeva molto bene. Ma poi dopo, nel secondo tempo, quando l'Eventus ha alzato un po' il baricentro, l'Inter si è trasformata, ecco, è finita adesso, l'Inter si è trasformata praticamente nell'allegrentus del cortomuso. Quindi una squadra in grado di chiudersi, aspettare l'errore dell'avversario, principalmente Di Blachovic, e provare le ripartenze. Ed è stata anche fortunata la Juve di non prendere il 2, il 3, il 4 a 0. Quindi, complimenti all'Inter per una rosa forte, per aver vinto senza nessuna polemica arbitrale, anzi, ripeto, mi è piaciuto molto. Però veniamo anche un attimo a parlare della Juve. Uno Cesni che, qualcuno mi diceva in live, forse poteva fare di più sul gol, ma non credo, perché lì è stata un'azione importante. Dopo parliamo di Pavard, secondo me il migliore in campo dell'Inter, che si è intrufolato, ha rotto le linee, ha messo questa valla al centro, e lì non ci abbiamo capito niente, Gatti. Tra l'altro, credo che la rovesciata di Pavard, che non ho neanche capito se l'ha toccata, ha sbattuto un attimo su Bremer, ha deviato ancora di più il pallone, mettendo ancora più in difficoltà Gatti. Non so quanto Cesni potesse farci qualcosa, ma dopo Cesni ha fatto un miracolo su Arnatovic, un'altra bella parata. Poi l'Inter ha preso anche il palo di Cialanoglu, quindi Cesni poco da dire. Bremer, Gatti e Danilo in fase difensiva eccezionale. In fase offensiva, se penso a quanto si sono fatti vedere bastoni e soprattutto Pavard in attacco, e quanto poco si sono fatti vedere Danilo e Gatti in attacco, e lì capiamo la differenza proprio dell'atteggiamento. Cioè, quello che voglio dire, la difesa 3 prevede che i due laterali, Acerbi rimane lì, Bremer rimane lì, ma i due laterali devono andare a turno a farsi vedere in attacco. E la Juve lo fa, Gatti lo fa, Gatti ha segnato, a Monza ha segnato. Cioè, si deve far vedere, stasera Pavard era lui in area di rigore sul gol del 1-0, e anche in altre occasioni, Bastoni dall'altra parte avanzava spesso. Io ho visto Danilo e Gatti troppo timidi, nel primo tempo, non superavo la linea di centrocampo, al massimo di qualche metro. Dopo nella ripresa hanno iniziato a farlo, e infatti la ripresa è finita 0-0, con una partita molto equilibrata, poteva segnare l'Inter, poteva segnare la Juve, è sembrata una partita un attimino più così. Ma al primo tempo ho visto proprio in questi atteggiamenti, la timidezza, proprio nel comportamento generale della squadra. Locatelli, solite buone chiusure in fase difensiva, è un centrocampista che non dà più di tanto, McKennie, bel primo tempo poi è andato calando, Kostic, vabbè che volevo dire a fare, un giocatore sì, fa pure la sua partita, ma a me non piace, i suoi cross, a un certo punto poteva battere un calcio di punizione, che sembrava quasi un calcio d'angolo, il primo in Manassommer, l'abito lo fa ripetere direttamente fuori, cioè ma che ve lo dico a fare, c'era un buon contropiede, doveva dare una palla al rabbio, gliela data lunga, cioè guardate, è inguardabile. Allora la Juventus quest'anno, lo stanno dicendo tutti, sta facendo più di quello che potrebbe fare, perché se voi pensate anche che i nostri cambi sono Miretti, UEA, che è un giocatore che, sì, Fortino, ma non è di che, poi abbiamo Kostic, Aleksandro, cioè questi sono i nostri cambi ragazzi, certo abbiamo Milik, squalificato, ma è Milik, cioè non è Ronaldo, è Milik, per cui, e non parlare del centrocampo, avremmo avuto Pogba, che magari stasera, se fosse stato in forma, avrebbe fatto sicuramente qualcosina di diverso, al centrocampo, un filtro diverso, magari a posto anche di Locatelli, ma è quello, la Juve ha questo, e quindi, purtroppo questi giocatori, i loro limiti li fanno vedere, Kostic è uno di quelli, Cambiaso non mi è piaciuto molto stasera, ha perso tra l'altro alcune palle davanti all'area di rigore, sul secondo tempo clamorose, poco incisivo, il Diz ad esempio, anche lui, devo dirvi che il Diz è un giocatore, ho molta paura su questo ragazzo, nel senso che secondo me, rischia di essere un giocatore, che pian piano viene capito sempre di più dalle difese avversarie, stasera era la difesa più forte della Serie A, quindi per l'amore di Dio, però ho, non lo so, ho delle difficoltà, ancora a interpretarlo, e dire già da subito, etichettarlo come il prossimo Leano e il Messi, bisogna aspettare per capire bene il Diz, comunque stasera ha provato, male l'inizio, poi pian piano è andato crescendo, però anche lui si è perso un po' nello sbattere contro il muro difensivo dell'Inter, non stare con questa testa in giù, e poi il peggiore in campo della Juve è sicuramente Vlachovic, perché è un giocatore nervosissimo, che se la prendeva con tutti i compagni, io ripeto, mi sembrava quei giocatori, quei gaming, che se la pigliano sempre con gli altri, loro non perdono mai, è colpa del mio team, è colpa degli avversari che imbrogliano, è colpa dell'arbitro, è colpa del gioco, è colpa dell'aggo, è colpa della grafica, è colpa del mio monitor, ma è colpa loro, ecco Vlachovic sembra così, si la piglia sempre con tutti, poi quando c'è l'occasione sbaglia, ma anche dopo ha sbagliato gli appoggi, ha perso tanti palloni, l'Inter infatti aspettava, aspettava, cosa aspettava? Che Vlachovic sbagliasse per poter ripartire, per cui non mi è piaciuto Vlachovic, è peccato che sia mancato proprio lui, perché era lui l'uomo più in forma che avevamo, quando la Juve poi è così, si affida a quei pochi che stanno in forma in quel momento, se vengono meno loro è finita, e quindi è così, ovviamente però come dicevano anche in chat, strike però attento, perché anche l'Inter che neutralizza i giocatori avversari, sì, però quando Vlachovic già dopo dieci minuti mi sbraccia con l'abito e si becca un giallo, lì non è merito dell'Inter, è lui che sta incazzato nero, non ho capito perché l'ha approcciata così, quindi diciamo è una squadra che ha mostrato i suoi limiti, ovviamente non abbiamo mai voluto vincere, è bravo, condivido, io ho avuto questa impressione dal primo momento, nel senso che ad esempio la famosa partita quando la Juve la recuperò sul finale quadrato e poi Higuain, io quella partita lo sapevo che l'avremmo vinta, me lo sentivo, stasera dal primo minuto, da quell'errore di Vlachovic, facciamo così dal trentesimo, ho avuto sempre questa sensazione, infatti dicevo in chat, secondo me se Bastoni scivola, Cerbi scivola, e si trovassi a tu per tu, qualunque giocatore davanti a Sommer, gliela spara addosso, me lo sento, stasera proprio così come dire, no vabbè ma tanto non la vinciamo stasera, ecco un rigore battuto come quello della Fiorentina, proprio vuoi dire vabbè ma tanto che cazzo lo batta a fa sto rigore, lo stesso non segno, cioè così, l'ho vista così la partita stasera, ed è ripeto un passo indietro, che fa parte comunque di una crescita di una squadra, che deve anche un po' capire quali sono i suoi limiti, l'Inter è una squadra a livello europeo, la Juve no, stasera giocavamo a casa loro, e abbiamo capito cosa ci manca per essere una squadra a livello europeo, nel senso che ci mancano poi quei giocatori, di un certo tipo, il progetto Juve di fondare una squadra sui giovani come il Dis, Miretti, Fagioli, quando tornerà eccetera, è un bellissimo progetto, però poi richiede un lavoro mentale diverso, perché ad esempio anche l'Ajax di De Jong, De Ligt, Nemes, erano tutti bellissimi giocatori che non avevano una grande esperienza, però l'approccio mentale loro è diverso, quella è una squadra che dice, della partita del genere, vado a giocarmela, tutti l'attacco, frega un cazzo, la Juve invece vorrebbe mantenere l'atteggiamento italiano, il big match, non si deve perdere, è importante, dopo i giornali che scrivono, però al tempo stesso con i giovani che hanno la spensieratezza, e sti cazzi, e sti cazzi, questo è il problema, detto ciò comunque è stata una bella partita, ci siamo divertiti, io ringrazio tutti per la vostra meravigliosa e simpatica partecipazione, stasera anche più del solito, spero che la mia telecronaca sia paciuta, mini applaudi, applaudi mini, ma dove stai? eccola qua, mini, saluta la live, ciao, no, non guardare medi, guardare verso la camera, non fare come Balzarini che guarda dall'altra parte, guardi qui nella camera, vedi qui, saluta tutti, ciao mini, certo, bello spot per la partita, non è che è piaciuta molto a mini la partita, ma a lei giustamente interessa un'altra cosa, le interessa il re leone, ma ci andiamo a guardare, detto ciò ragazzi, un abbraccione, mi raccomando fate il bravo, e ci vediamo lunedì, se tutto va bene, torno in fretta dagli scrutini, un bello amaro, un bacione, ciao, ciao,